ciao amici di mondo show me ho scoperto su aliexpress i cinturini originali amazfit per il gts cioè quelli da 20 mm che vanno bene anche per il gtr quello più piccolo che anche lui ha il cinturino da 20 mm in nove colorazioni ma sono originali cioè ragazzi il lake blue olive green sunny orange paper cioè viola il mint blu il navy blue coffee brown sky blue e coral red io ordinerò sicuramente questo coffee blue coffee brown volevo dire e questo il lucky blue perché come sapete ho ordinato la versione gold del gts perciò questo qui secondo me ci sta da dio e anche questo vi faccio vedere eccoli qua vedete ci sono in un altro link anche per il 22 22 il gtr e quello da 47 e sono veramente belli perché come sapete il gts ce li ha scadenti molto scadenti bellissimi secondo me sono bellissimi io alla fine del video vi lascerò il link per l'eventuale acquisto in descrizione ragazzi favolosi li trovate solo qua né su bangu né gearbest da nessun'altra parte molto semplice da staccare e mettere come vedete molto molto belli qua vi dice le specifiche del cinturino si qua dice 22 millimetri per lo stratus ma c'è anche il 20 che è il gts perché se andiamo a guardare vedete qui 20 millimetri lui dice gtr ma è anche gts il 20 mm è il gts noi ci vediamo ad un prossimo video mettete un bel pollicione verso l'alto condividete il video e iscrivetevi al canale ragazzi ciao alla prossima ciao